Con questo brano noi lasciamo subito il posto ai ragazzi che dopo si esibiranno Vi salutiamo, le cose che sono state dette, che dovevano essere dette, insomma sono state dette Spero vi sia piaciuto insomma le nostre esibizioni Un applauso ragazzi, è molto gratuito Vi ringrazio io Vi salutiamo con questo brano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti